Ciao a tutti e benvenuti, io sono Riccardo Grecchi e sono qui per presentarvi il mio ultimo video didattico di batteria basato sull'argomento degli unisoni. Il video sarà in uscita su Planet Drum, io ringrazio di cuore tutto lo staff di questo grande portale di batteria. Noi ci vediamo alla prossima, non perdetevi il video, ciao a tutti! Salve a tutti, sono Riccardo Grecchi e come avrete intuito dal titolo, in questo video parleremo di un workout per lo sviluppo degli unisoni nella tecnica delle mani. Sviluppare gli unisoni significa bilanciare gli arti dal punto di vista tecnico, della costanza timbrica, della velocità e di quanto potete durare nell'esecuzione del pattern o di quello che state suonando. E' un passaggio intermedio nel senso che presuppone che già avete lavorato sui vostri arti singolarmente, prima l'arto forte, per poi passare all'arto debole, per poi appunto lavorare sugli unisoni. Se non l'avete fatto vi rimando a un mio workout sugli Stone Killer che troverete qui nella descrizione. Il workout di questo video è così composto, partiremo da 60 bpm per arrivare a 120 bpm, aumentando il metronomo di 5 bpm alla volta. Ogni bpm andremo a eseguire 4 battute in quarti, 4 battute in ottavi, 4 battute terzinate, 4 battute in sedicesimi. Queste 16 battute andranno a completare un ciclo. Vi consiglio di eseguire almeno 4 cicli per bpm. Noterete come durante l'esecuzione di questo workout si andrà a cambiare la tecnica tra Matched Grip e French Grip, la quale è più adatta all'uso delle dita, quindi ad alte velocità. Nella descrizione di questo video troverete il metronomo del workout appena descritto e il pdf con il numero di battute e il tipo di battute che dovremo andare ad eseguire. Il workout in totale durerà 40 minuti. Ora andrò ad eseguire un ciclo per bpm per farvi sentire il senso ritmico e la tecnica che si andrà ad utilizzare per tutte le fasce di bpm interessate. Io vi ringrazio per aver seguito questo video, iscrivetevi al mio canale e vi rimando ad altri video didattici che troverete qui sotto nella descrizione. Grazie mille, ciao a tutti! Grazie 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 a tutti! a tutti! Grazie a tutti!